Bene, adesso siamo alla fossola di tramonti che è questo versante che vedete con questi gruppetti di case. La fossola è quella più richiesta come zona perché? Perché è più comoda come accesso con la macchina, quindi si arriva su in alto, si parcheggia la macchina e con 5 massimo 10 minuti a piedi si raggiungono tutti i rustici che ci sono qua nella zona. Qui abbiamo seguito recentemente, abbiamo venduto un rustico che era accatastato come abitazione e il cliente gli abbiamo seguito tutta la ristrutturazione e adesso poi lo metterà a reddito, quindi prossimamente vedrete anche tutto il prima e il dopo di questa soluzione. Perché vi parlo della fossola? Perché nell'ottica investimento è la zona più richiesta, quindi ci sono gli amanti dei ruderi che li recuperano per usarli loro, però molti investitori scelgono anche questa zona per trovare il giusto compromesso tra la ricettività turistica e considerate, guardate il paesaggio che avete, le passeggiate lungo i sentieri del Cai.